Bene amici, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato appunto a vizie alle virtù. Stiamo trattando in questo momento il vizio capitale, molto bruttarello. Della lussuria. Abbiamo visto la volta scorsa l'introduzione dei primi brani biblici che dimostrano come i peccati impuri e in particolare la lussuria e tutti quanti le azioni che come vedremo configurano questo vizio capitale non sono invenzioni ma sono fondate biblicamente. Abbiamo cominciato a passare nella segna la volta scorsa i testi, i primi quattro testi di San Paolo ricordando che ce n'erano ancora qualcun altro e ce ne abbiamo almeno altri quattro questa sera e sempre tratti due dall'epistolario Paolino, un brano della lettera agli Efesini, un brano della lettera ai Romani molto molto noto, molto famoso, un brano dell'apostolo Pietro e forse daremo alcuna occhiata a qualche allusione che fa anche l'apostolo Giuda nella sua breve ma appunto abbastanza intensa lettera. Riprendiamo quindi la nostra trattazione esattamente da dove ci siamo fermati la volta scorsa. Quindi proseguiamo con la lettura della lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 3 e 5. Io uso come testo di riferimento di base la traduzione della CEI del 2008. Come sempre poi andremo a dare un'occhiata anche evidentemente a eventuali correzioni di tiro in base ai testi originali. Allora, prendiamo un attimo il nostro testo di riferimento. Abbiamo detto che è Efesini, capitolo 5, versetti 3 e 5. Allora. Di fornicazione di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli tra voi come deve essere tra santi. Né di volgarità, insulsagini, trivialità che sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazia. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Il passo è veramente molto bello. A prima lettura mi sembra peraltro che la traduzione sia abbastanza stavolta calzante, quella nuova. Allora, fornicazione, abbiamo già visto l'oltre scorsa, è porneia in greco, fornicazio in latino. E ci siamo. L'equivalente ebraico di questi termini è zenut, che in aramaico è zenutà. Fornicazione. E di ogni specie di impurità, anche questo l'abbiamo visto la volta scorsa, acatarsia, impurità, acatarsia, o di cupidigia, sì, qui è pleonexia, pleonexia, scusate, in greco, si può tradurre cupidigia o anche avarizia in senso stretto. Quindi si parla insieme di fornicazione, di impurità, di tutta l'impurità, ogni specie traduce pasace in greco, no? Omnis immundizia in latino. O di cupidigia, attenzione, neppure si parli tra voi, mede onomazesto, quindi, non si parli tra voi, come si addice ai santi. Allora, attenzione alle frasi che usa l'Apostolo, eh? Cioè, di queste cose non se ne deve nemmeno parlare, non è stato che non si devono fare, ma non bisogna nemmeno parlarne, neppure se ne parli. Quindi, di fornicazione, come pensate, no? Di rapporti prematrimoniali, neppure se ne parli. Di ogni specie di impurità, quindi ogni specie di impurità, vedete, qui c'è una definizione che copre tutto l'arco della lussuria e quello che si chiama nella tradizione della Chiesa il De Sexto, no? E di avarizia, quindi cupidigia, brama del denaro. Noi abbiamo, cioè, nemmeno se ne parla. Cioè, sono come se non esistessero. Io tante volte ho sempre detto, e amo dire, anche ai giovanotti, quando faccio le catechesi al riguardo che praticamente dell'argomento sessualità dovremo entrare nell'ottica che appunto è una vocazione al matrimonio e non dovrò poi vivere nel matrimonio. Allora, tranquillo, tutto quanto tutto quanto va tutto bene. Però, al di fuori di questo ambito c'è niente. Non c'è. Nemmeno se ne parli. Attenzione. Né di volgarità. Attenzione. Insulsaggini. Attenzione che qui adesso vedremo il greco, eh. O trivialità. Allora, qui la traduzione italiana più o meno rende, anche se i termini sono un pochino invertiti. Allora, in greco ci abbiamo che si traducono letteralmente. La prima sarebbe cose che fanno vergognare. Giustamente la vulgata traduce turpitudo, le cose vergognose. e, attenzione, morologhia è il parlare il parlare sciocco, il parlare insensato. Moros significa uno che è fuori di testa, insomma, no? E eutrapelia, attenzione, è proprio testualmente il parlare volgare. che sono cose non adatte ai figli di Dio. Quindi, capiamo, no? discorsi relativi a cose vergognose, discorsi insensati e volgarità devono essere banditi. Lo stesso si dica, quindi non solo non si dicono, ma neppure se ne parli. abbiamo che qui, per esempio, c'è la condanna esplicita, esplicita, eh? Eutrapelia è proprio, cioè, quindi, non è che che ci sono possibilità. Turpitudo aut stultiloquium in latino, in latino di San Girolamo, aut scurrilitas. Le scurrilità, no? Il linguaggio scurrile. Neppure se ne parli. Quindi, piuttosto, dice, qui si fa riferimento a tutti quanti discorsi, no? Perché sia i discorsi relativi a cose vergognose, i discorsi relativi a cose insensate o i discorsi volgari si fanno con le parole. Ok? E' per questo che neppure, non solo non si dicono, ma neppure si parla di queste cose, cioè, avendole come oggetto. Piuttosto rendete grazie le nostre parole, che dovrebbero essere un grazie interrotto al nostro Signore. Ancora, perché sappiatelo bene che nessun fornicatore o impuro o avaro, pleonectes, vedete qui, è strano proprio, cioè, la traduzione della cea a volte è un pochino strano, sopra ha tradotto lo stesso termine, pleonexia, come cupidigia. Adesso, pleonectes lo traduce più pertinentemente come avaro. ossia nessun idolatra ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Capite che non avere in eredità il regno di Cristo e di Dio sono evidentemente eufemismi, quindi espressioni un pochino più soft di ciò che qualche santo, specialmente francescano, ecco, di altri tempi, non di oggi, avrebbe detto guardate che andare dritti dritti all'inferno. Un esempio eccellente era padre Pio, quindi, da questa roba si deve stare lontano come dalla peste bubonica. e qui diciamo che siamo di nuovo dinanzi alla parola di Dio, non siamo dinanzi alla parola degli uomini, no? Andiamo avanti. Abbiamo un altro testo ancora che è il primo, famosissimo, primo capitolo della lettera ai romani i versetti 24-28 quindi anche lì c'è un linguaggio che dire esplicito è anche troppo e dinanzi a questo linguaggio desta ancora più stupore oltre che sofferenza cose che purtroppo ormai sono notorie pubbliche il fatto che purtroppo disgraziatissimamente non soltanto che delle cose di cui qui adesso parla San Paolo se ne parla tra i figli di Dio ma se ne parla anche prospettandole come prossimamente sdoganabili non soltanto in ambito civile già lo sono stato già lo sono state ma anche in ambito ecclesiastico insomma qui San Paolo scrive sta parlando qui siamo al versetto 24 ma chiaramente leggendo da un pochino prima si capisce che sta parlando dei pagani no? e dei pagani qui fa riferimento in particolare ai greci perché parla di quelli che si dichiaravano sapienti e che sono diventati distolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine di una figura di uomo corruttibile le idolatrie legate alle rappresentazioni mitologiche degli dei che proprio sia del mondo greco che del mondo romano e al versetto 24 comincia perciò Dio li ha abbandonati seguo la 2008 all'impurità secondo il desideri del loro cuore tanto da disonorare i loro corpi fra di loro qui letteralmente Dio li ha consegnati alla lussuria qui c'è proprio epitiumia epitiumia che è il desiderio desiderio però il desiderio lussurioso epitiumia è un termine tecnico no? ossia alla acatarsian ancora una volta questo vero termine lo sappiamo no? quindi alla lussuria cioè all'impurità quindi secondo l'impurità dei loro cuori quindi alla lussuria dei loro cuori secondo l'impurità così da disonorare i corpi gli uni con gli altri abbiamo questi due termini epitiumia e acatarsia perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno dorato e servito le creature anziché il creatore che ha benedetto noi secoli ame per questo Dio li ha abbandonati seguo sempre la traduzione a passioni infami infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura e similmente anche i maschi lasciando il rapporto naturale con la femmina si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri commettendo atti ignominiosi maschi con maschi ricevendo così in se stessi l'attribuzione dovuta al loro traviamento e poiché non ritendono di dover conoscere Dio adeguatamente Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne ora noi capiamo bene che queste espressioni cioè sono assolutamente forti ma attenzione queste non sono parole di San Paolo che uno le può liquidare dicendo ah qui San Paolo è uomo di altri tempi e usa un linguaggio inaccettabile io la mia domanda è una cosa molto molto semplice che cosa facciamo dinanzi a questo testo io non voglio non voglio fare nessun tipo di discussione cosa facciamo dinanzi a parole così esplicite vogliamo andare a vedere la lingua originale insomma ma quindi possiamo farlo tranquillamente il versetto 26 Aetegar teleiai le femmine loro femmine metellaxan quindi hanno cambiato ten fiusichen fiusichen fiusis in greco è natura fiusichen significa naturale cresin cresin significa relazione eisten para fiusin para con l'accusativo in greco si traduce con contro eisten para quindi hanno cambiato il rapporto naturale in un rapporto contro natura punto lo chiama così lo chiama e attenzione si chiama così semplicemente perché il dimorfismo maschio e femmina e quindi la reciproca ordinazione l'uno all'altro è quanto stabilito da Dio nell'atto della creazione a prescindere poi peraltro tra l'altro dall'uso o meno della sessualità che è tema controverso se fosse da ritenere come esistente nello stato di giustizia originale o semplicemente dopo la caduta però non entriamo in questo argomento che è come chi mi segue lo sa oggetto di un altro ciclo di catechesi in ogni caso il dimorfismo maschio e femmina è una cosa stabilita da Dio nell'ordine creativo questo significa andare contro la tua non significa fare una cosa che chi lo sa che cosa ha fatto esce dal canale stabilito e depositato da Dio stesso creando l'uomo è chiaro che dentro contesti come quelli che dire laici è dire nofemismo ultra laicizzati ma di fatto atei anche se qualcuno si pensa anche di essere credente contemporanei che rifiutano l'idea stessa di creazione gli ordinamenti giuridici ormai da tempo che hanno abbandonato il concetto di legge naturale no? che era stato dentro il panorama giuridico per secoli tant'è vero che c'era la sioma che la legge positiva non poteva in nessun modo derogare la legge naturale perché la legge di Dio si manifesta in due modi con la legge positiva cioè le cose che lui stesso direttamente comanda e con quelle che non comanda direttamente ma che comanda in un certo senso indirettamente perché si tratta di prendere atto di ciò che lui ha depositato nell'ordine creativo il motivo per cui come dire per esempio la relazione interpersonale i rapporti interpersonali tra uomo e donna devono essere aperti alla vita è lo stesso cioè perché nella attuale conformazione umana la sessualità è intrinsecamente collegata alla vita scollegare la dimensione unitiva dalla dimensione procreativa con un atto positivo di volontà è andare contro ciò che è secondo l'attuale legge di natura ecco perché non si può fare così come l'uso della sessualità poi vedremo parlando della ossuria diverso da quello tra uomo e donna compiuto negli atti che si chiamano coniugali perché dovrebbero essere compiuti solo tra coniugi aperti alla vita vedremo che San Tommaso ci arriva nel suo tempo ogni volta che c'è una presentazione una conformazione di un uso della sessualità prescindendo da questo estende addirittura la definizione di atto contro natura pensata addirittura agli atti impuri solitari fa una macro categoria un genere perché perché anche quello in un certo senso neanche troppo in un certo senso è contro natura perché non nel senso che va contro proprio però esce dalla logica di cui stiamo parlando perché se nella attuale economia del mondo su questo non c'è dubbio la sessualità è ordinata alla procreazione quando tu compi un atto sessuale che è intrinsecamente impossibile ordinarlo alla procreazione perché non può già esci fuori dalla volontà di Dio continua San Paolo homoios tecai oi arsenes stavolta sono i maschi afentes afiami significa che hanno lasciato ten fusichen di nuovo il rapporto cresin ten fusichen cresin il rapporto naturale tes teleias il rapporto naturale teleias abbiamo già visto della femmina allora exe cautesan da eccaio il fuoco si sono accesi di orexei orexei di passione di appetito auton e sallelus degli uni verso gli altri arsenes e narsesin quindi uomini con uomini ten aschemos unen atti vergognosi letteralmente catergazemoni catergazomenoi commettendo atti vergognosi gli uni con gli altri proprio la traduzione è molto consola e kaiten antimistian ene dei tes planes auton enotois apolambanuntes ricevendo così in se stessi ene autois la retribuzione qui meglio sarebbe sì retribuzione qui proprio retribuzione in senso in senso penale quindi la pena che si addiceva al loro errore quindi traviamento planes in greco kaitos uc e poiché non ritennero edokimasan tontheon ekein ene pignose cioè di avere una conoscenza di avere una corretta conoscenza di Dio quindi di dover conoscere Dio adeguatamente pare doken quindi Dio li ha consegnati eis adokimon nun quindi ad una intelligenza adokimon adekomai cioè che che non che non sta più connessa sulle cose necessarie quindi quindi inaccettabile debosciata o come viene tradotto qui depravata la vulgata reprobun sensum ok poienta me katekontan perché facciano cose azioni indegne che non sono convenienti allora anche qui serve commentare insomma non credono quindi abbiamo un linguaggio e una chiarezza insomma quantomai esplicita io ripeto e qui cioè chiunque anche in ambito cattolico ecclesiale prospetti certe come dire forme abbastanza grosse di apertura cioè purtroppo penso che io cerco sempre di proprio come stile mio personale di evitare se possibile di parlare di tante cose che non funzionano e che non vanno che si vedono in giro ma perché perché parlarne serve soltanto a adolorarsi d'accordo e a volte anche a seminare come dire turbamento qualche volta scandalo però purtroppo adesso non è che si può più troppo cioè che cosa cioè alcune cose sono state rese pubbliche lo sappiamo tutti quanti ci sono dichiarazioni di persone molto in alto di intere conferenze che stanno piegando verso una certa direzione verso una certa prospettiva io mi chiedo semplicemente cioè come si fa a orizzontarsi dentro certi ambiti per noi credenti cioè noi ci crediamo che questa è parola di Dio oppure no perché se non crediamo che questa è parola di Dio ah va bene ci stiamo facendo però un'altra un'altra religione questa è parola di Dio non è parola di San Paolo cioè San Paolo non è un padre della Chiesa d'accordo tu dici sai è un padre della Chiesa scrive nel contesto dei suoi tempi quindi è influenzato ha detto alcune cose però adesso siamo cresciuti nel corso dei secoli ci siamo come dire evoluti e quindi e non si può cioè ci sono dei dei problemi grossi che vanno che vanno affrontati non si può semplicemente dire adesso facciamo così perché ci sembra opportuno fare così perché la società perché la cultura che la società e la cultura vadano specialmente questa società e cultura che non c'è in una certa direzione vadano pure insomma no quindi ma 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 che la fede si possa adeguare a certe direzioni amici miei cioè non appare proprio possibile questo è abbastanza è abbastanza evidente quindi non di che vogliamo parlare allora l'ultimo brano è tratto dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo capitolo 2 versetti 1 e 2 e poi 13 e 14 andiamo anche questa a vedere capitolo 2 versetti 2 13 e 14 versetti 1 e 12 ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo come pure ci staranno in mezzo a voi falsi maestri i quali introdurranno fazioni che portano alla rovina rinnegando il Signore che li ha riscattati attirando su se stessi una rapida rovina attenzione e molti seguiranno la loro condotta immorale e per colpa loro la via della verità sarà coperta di disprezzo vogliamo commentare io passerei direttamente ai versetti più avanti insomma perché è abbastanza esplicito qui falsi maestri falsi maestri qui pare che qualcuno in giro ci stia e per colpa loro la via della verità sarà coperta di disprezzo sono parole abbastanza forti pronunciate dal primo papa primo papa che è il punto di riferimento anche di tutti i papi che sono stati sono e saranno perché insomma Pietro è il punto di riferimento è vero che il papa è anzitutto vicario di Cristo ma è vicario di Cristo in quanto successore di Pietro e in quanto da sempre relazionarsi con i contenuti essenziali del ministero Petrino che sono sempre stati di difesa di custodia di trasmissione del deposito della fede condannando ogni deviazione e ogni distacco da esso allora ancora si salta un pezzo insomma costoro perché a un certo punto fa una parentesi sugli angeli decaduti in questo capitolo a San Pietro ma costoro irragionevoli e istintivi nati per essere ripresi uccisi bestemmiando quello che ignorano andranno in perdizione per la loro condotta immorale subendo il castigo della loro iniquità essi stimano felicità darsi ai bagordi in pieno giorno scandalosi e vergognosi godono dei loro inganni mentre fanno festa con voi hanno gli occhi pieni di desideri disonesti e insaziabili nel peccato adescano le persone instabili hanno il cuore a suo efatto alla cupidigia figli di maledizione quindi sono parole veramente veramente di fuoco no? stimano felicità darsi ai bagordi in pieno giorno voluptatem existimantes diei delicias coinquinaziones no? in in latino in greco è egumenoi ten enemera trufen trufen che non è soltanto sì la i bagordi no? stimano sì felicità darsi ai piaceri di un giorno si può tradurre anche russuria questo questo termine tra le varie tra le varie possibilità no? quindi insomma anche anche san pietro è abbastanza è abbastanza forte su questo qui no? ripeto potremmo andare a vedere anche qualche passaggio lo riprendo un attimo al volo della lettera di giuda che che giuda insomma aveva abbastanza a un passaggio dedicato a Sodoma e Gomorra nel capitolo versetto 7 della lettera di giuda si legge così Sodoma e Gomorra e le città vicine che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura anche qui si usa questo termine e tutti quanti sappiamo quello che succedeva a Sodoma e Gomorra stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno ugualmente anche costoro come sotto la spinta dei loro sogni contaminano il loro corpo il proprio corpo disprezzano il Signore e insultano gli esseri gloriosi ecco quindi che vogliamo dire? questa è un pochino la rassegna biblica inerente al vizio capitale della lussuria e qui evidentemente dobbiamo fermarci adesso e proseguire un pochino con la trattazione andando a a cominciare a focalizzare un pochino ecco questo questo nostro tema in maniera un pochino più sistematica riprendiamo alcune considerazioni generali dopo questa rassegna biblica in cui volendo dare trarre un pochino di somme si condannano praticamente senza mezzi termini tutti i tipi di atti impuri che vedremo essere contenuti nella vizio capitale della lussura la fornicazione abbiamo già detto l'impudicizia l'invertinaggio le orge l'impurità l'omosessualità la dissolutezza queste sono le terminologie che abbiamo incontrato in questi brani biblici quindi per concludere l'ampio discorso qui non si tratta semplicemente di non commettere adulterio come diceva qualcuno perché la teologia del nuovo testamento soprattutto dopo la venuta e la predicazione di nostro signore che già nel Vangelo abbiamo fatto riferimento no? se uno guarda una donna per desiderarla e poi comincia a dire se il tuo occhio destro ti scandalizza se la tua mano ti scandalizza se il tuo piede ti scandalizza in quel contesto no? quindi manifesta una chiarissima intenzione con la pienezza della rivelazione quindi anche con l'avvento di Gesù e di Maria che hanno portato nel mondo la pienezza anche della rivelazione sul sull'uomo e sulla sua vocazione dobbiamo pensare che prima di Gesù e Maria la verginità non c'era non era considerata nemmeno un valore neanche da parte del popolo di Israele che era il popolo eletto non c'era ancora quindi noi non possiamo considerare il decalogo senza così come il terzo comandamento cioè qui ci sono i cultori della lettera all'antico testamento non si tocca ma l'antico testamento come dicevano i padri si interpreta attraverso il nuovo e il nuovo evidentemente deve fare riferimento all'antico perché è una sua naturale prosecuzione anche se evidentemente è anche una dilatazione è un perfezionamento non è semplicemente ripetere le stesse cose perché se dovessi ripetere le stesse cose non sarebbe servito Gesù dice io non sono venuto ad abolire la legge ma sono venuto a dare compimento quindi a perfezionarla a portarla alla massima perfezione a completarla questo sì questo Gesù l'ha fatto no? allora seguendo un pochino Sant'Ommaso adesso cominciamo ad addettrarci un po' dentro la tematica di questo vizio allora gli atti a cui da luogo questo vizio capitale della lussuria gli atti perché sapete i vizi abbiamo già visto questa differenza i vizi sono disposizioni stabili e cattive da parte della volontà della persona evidentemente però un vizio non è un qualcosa di astratto o di teorico un vizio sussiste negli atti in cui si compie e si consuma ora gli atti a cui da luogo la lussuria nascono o meglio costituiscono una trasgressione diretta a due precetti del Decalogo cioè il sesto e il nono non commettere atti impuri e non desiderare anche qui la versione originale era donna da altri ma anche qui per estensione si intende tutto ciò che è materia del sesto comandamento applicato ai desideri o a ciò che alimenta il desiderio che sono gli occhi quindi i peccati impuri che si commettono col desiderio o con gli occhi quindi bramando desiderando qualcosa quindi un desiderio può essere mosso semplicemente da una fantasia oppure stimolato da ciò che si vede oppure per non fare come dire per non cadere nelle pastoie farisaiche della interpretazione letterale della legge uno può anche come dire muoversi all'ussuria non attraverso ciò che pensa non attraverso ciò che vede ma attraverso ciò che sente a livello di musica a livello di discorsi a livello capiamo di ambienti di situazioni di provocazioni ora detto questo possiamo subito già focalizzare che un comportamento lussurioso può essere posto in essere almeno in quattro modi attraverso atti attraverso parole passi di san paolo i discorsi osceni i discorsi vergognosi gli occhi se il tuo occhio ti scandalizza cavalo dice Gesù nel Vangelo a che cosa fa riferimento in che modo può scandalizzarci l'occhio cioè essere per noi causa di peccato grave quando guarda ciò che non si deve o i pensieri e desideri fu detto non commettere adulterio ma se una guarda una donna per desiderarla quindi pensieri e desideri ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore questa è una prima come dire configurazione dei comportamenti lussuriosi oppure un atteggiamento comportamento lussurioso lo si può anche individuare a seconda della sua rispondenza o meno agli istinti comunque naturali dell'uomo anche se moralmente disordinato distinguendo gli atti impuri secondo natura da quelli contro natura vedremo che la distinzione è più ampia di quello che si pensa comunemente perché generalmente almeno un certo parlare tradizionale nel peccato contro natura si intendeva soltanto ciò che attiene all'omosessualità maschile o femminile ma non è solo questo si può anche rilevare l'ambito direttamente illeso dal comportamento lussurioso ovvero ossia la santità del corpo in quanto tempio dello spirito santo oppure la santità del sacramento del matrimonio cioè alcuni comportamenti lussuriosi sono direttamente contrari alla dignità del nostro corpo in quanto tempio dello spirito santo che non possiamo profanare con questi atti invece altri comportamenti vanno direttamente a toccare all'edere la santità del sacramento del matrimonio vedremo anche nel corso della trattazione che è possibile distinguere come già abbiamo visto per gli altri vizi e sant'ommaso lo fa alcune figlie che ha la lussuria e vedremo anche che di questo vizio sant'ommaso stesso individua sei specie distinte quindi questo un pochino come presentazione noi ci addentreremo poi dentro queste distinzioni teniamo presente che ogni volta che un modo suscitato dal vizio della lussuria viene deliberatamente attenzione provocato assecondato consentito ricordiamo sempre per fare un peccato ci vuole la piena avvertenza mortale ci vuole la piena avvertenza e un deliberato consenso ora siccome questa materia è intrinsecamente grave sempre ne conseguo che quando una persona ripeto deliberatamente provoca a seconda o consente un moto suscitato dal vizio capitale della lussuria sarà sempre peccato mortale sempre fosse anche un pensiero perché il concilio di Trento ha dichiarato esplicitamente si può leggere nel dancing era il 1707 la gravità intrinseca dei peccati contro il nono comandamento che non sono sempre peccatucci rimangono peccatucci se rimangono dentro una soglia abbastanza abbastanza basso di abbastanza basso tenore ma appena la superano quindi appena c'è un consenso pieno al desiderio al pensiero quello non è più un peccatuccio neanche se soltanto di pensiero o di desiderio ecco qui chiaramente amici stiamo facendo un po' di sana dottrina cattolica per cui la formazione deve essere chiara è chiaro che poi le situazioni concrete le circostanze vanno sempre esaminate tenendo presente tanti fattori però capite ciò che è bene ciò che è male e quali sono gli ambiti di demarcazione noi dobbiamo averlo chiaro allora la russura si esplica nel complimento di atti quando vengono posti in essere appunto atti e comportamenti che provocano il risveglio e il soddisfacimento pieno dei piacere veneri si chiama nel linguaggio comune un'anticamera di questo è lo stato di eccitazione che venga in qualche modo provocato o assecondato da chi lo vive e a volte lo subisce senza possibilità di toglierselo ma soltanto di combatterlo attenzione se uno fa con compiacenza un apprezzamento spinto quindi non è dire guarda quello quanto è bello ma un apprezzamento spinto quindi di altro genere che chiaramente io non nomino oppure intesse un discorso volgare a sfondo sessuale compie dei peccati gravi in questi due casi con la lingua oltre che chi guarda una donna per desiderarla il Signore in un altro passo del Vangelo fa riferimento all'occhio quando ci ricorda che la lucerna del corpo è l'occhio ci dice se il tuo occhio sarà nella luce tutto il tuo corpo sarà luminoso ma se il tuo occhio sarà tenebroso tutto te stesso sarà tenebra se dunque la luce che in te è tenebra quanto grande sarà la tua tenebra quando l'occhio si trova dinanzi e questo lo dico per tutti e questo vale anche per chi è laico anche per chi è sposato perché tenete presente che le persone sposate possono avere occhi e devono anche avere occhi per il proprio conuge senza nessun dubbio ma poi basta occhi per altri non ci stanno qualunque immagine oscena o indecente nei confronti della quale per esempio l'occhio disgraziatamente o involontariamente si trovasse ad imbattervi si può succedere con un cartellone pubblicitario con una rivista con un film con una pubblicità oggi siamo letteralmente io sono consapevole invasi bombardati e la cosa che a me dispiace anche se non sono un fruitore abituale della televisione ma è che ci vanno di mezzo quei poveri ragazzini perché non hanno nessuna remora a quanto pare di andare anche a fare delle beceraggini in spot pubblicitario in prima serata io sono vicino col cuore con la sofferenza con la partecipazione per quanto possio quando vengo a sapere certe cose mi addoloro enormemente mi metto nei panni e dico ma se fossi io un papà se ci avessi io dei figli ma che deve fare una buona famiglia oggi per andare a samentare qualcosa insomma a me dispiace tanto capisco che per i genitori si complica enormemente la vita cioè che devi stare sempre con la camicia gelata che fai io capisco stiamo ci è capitato ci è toccato di vivere di 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 nascere di crescere di vivere in questi tempi pensiamo a una coppia di giovanotti oggi cioè una coppia di giovanotti oggi non è come una coppia di giovanotti di 60 anni fa dobbiamo andare sempre dobbiamo prendere come argine prima del del 68 insomma perché è da quella data che cominciano insomma diverse situazioni critiche a me dispiace cioè sono consapevole che per tutti è una grande lotta è un grande combattimento ma questo combattimento bisogna affrontarlo e tanto più bisogna affrontarlo e quanto più bisogna essere fermi su alcune cose quanto più invece il costume la società la cultura tende sempre ad abbassare l'asticella che adesso praticamente è diventato tutto lecito oggi si compiono pubblicamente pubblici scandali gravissimi molti dei quali con corollario di oltraggio ignominioso diretto provocatorio al nostro Signore Gesù Cristo alla Madonna alla Santissima Trinità chi come dire è un po' più rinformato negli ultimi 4-5 anni se ripensa ad alcune cose ce ne siamo ce ne sono quante ne vogliamo di queste cose qui ci è toccato da da campare in questi in questi termini in questi tempi penso che nessuno ignori anche alla luce di eventi che in questi ultimi tempi si stanno susseguendo ci stanno incalzando cioè credo che non sia difficile riconoscere che sono tempi in cui il diavolo è scatenato e quando purtroppo il diavolo è scatenato il diavolo è scatenato e quindi come si dice in un'espressione comune si salvi chi può cerchiamo di farci qualcosa tutto quello che ci possiamo fare di salvare il salvabile non possiamo cambiare il mondo no non possiamo cambiare il mondo però per esempio una coppia che ha i figli tu puoi custodire e preservare i tuoi figli dovrai combattere e lottare un po' non un po' tanto la vita sarà complicata abbastanza forse molto la società possiamo cambiarla direttamente direttamente no però possiamo essere segni di contraddizione dobbiamo dare il buon esempio non possiamo assolutamente scendere a compromessi su queste cose né arrenderci io non posso cambiare il mondo posso come dire come sto cercando di fare anzitutto custodire i doni di diverginità e di castità che il Signore mi ha dato e parlarne come se ne deve parlare insomma come di una cosa meravigliosa e bellissima e dire con tanta spero ci provo insomma umiltà e rispetto ma anche con tanta chiarezza quello che la Santa Chiesa Cattolica e la Liberazione insegnano su queste materie e che oggi è diventato più complicato mettere in pratica per il contesto da cui siamo circondati ci sono dei piccoli martiri da compiere oggi non è cioè il martirio di sangue almeno qui in Italia e in Europa al momento perché non si sa mai non sembra essere all'ordine del giorno prossimo ma questi martiri sì il martirio di essere ricoperti di ridicolo essere bollati come retrogradi oppure dover anche stare a tribolare insomma no io immagino una famiglia di bambini alcune cose di cui in passato parlavo chiaramente no cioè noi oggi non possiamo essere così ingenui un bambino di qualche anno tu non gli puoi lasciare in mano un computer maneggiandolo da solo io lo capisco che è complicato ma oggi come fai con internet e con quello che gira su internet io ricordo che in primi tempi che ero giovane vice parroco e parroco andavo a benedire le case quante volte trovavo stanze di bambini piccoli di 7, 8, 9 anni con la televisione in camera io non voglio fare il bacchettone non voglio non mi interessa di fare queste cose qui no però io dico nel mio parlare anche quando parleremo di queste cose no io non vorrei semplicemente presentare delle norme o delle leggi anche il nostro signore non fa così è chiaro che le norme e le leggi ci stanno e se ci stanno evidente che la coscienza deve farle proprio e osservarle però le leggi dell'altissimo dice il bellissimo salmo 19 sono verità e grazia sono sapienza infinita allora tu puoi pensare cioè con quella con quell'immunnezzaio che c'è in televisione tu pensi che tuo figlio che tua figlia se c'è la televisore in camera la sera chiude la porta si mette a vedere la televisione da solo oppure si alza la notte a luna che tu non si sporcherà l'anima è quasi impossibile e noi non possiamo dire vabbè ma tanto se non lo fa qui lo farà altrove perché tanto oggi è impossibile quindi d'altrove ci saranno gli amici le cose ma è stato tardi con certe cose si entrerà in contatto però figlioli miei cari così è finito tutto la famiglia ha un compito educativo non si tratta di trasmettere semplicemente proibizioni evidentemente ma di far maturare un valore un valore che certamente mi ha protetto poi è certo che quando tuo figlio o tua figlia cresce che fai gli metti la catena al collo lo metti sotto una campana di vetro dovrà poi certamente a sua volta essere lui a combattere a resistere a fare le sue scelte perché il nostro signore non forza nessuno però fino a quando è piccolino i genitori lo dovranno pure un pochino aiutare o no io mi chiedo mi chiedo e propongo e dico poi se uno pensa dice vabbè non fa niente ti affaglio e tenere la televisione in camera che tanto non c'è nessun problema uè io non sono molto pratico perché ripeto con me la televisione ha poco a che fare ma da quel poco che sento e che mi raccontano e che in parte so bisogna fare attenzione a queste cose quindi le immagino scene indecente tanto per determinare un discorso cioè anche se le vede un adulto l'adulto l'occhio lo deve mettere altrove cioè lo sguardo deve essere volto altrove una scena di sesso esplicito che oggi è un cioè gira sta pieno dovunque uno si gira io mi ricordo quando quando facevo un po' più di pastorale adesso purtroppo non ci sono le possibilità oggettive con i giovani che ogni tanto che fai non ti vedi qualche bel film per per aiutarli evidentemente per farci poi un discorso no a me a volte capitava che anche con film di di una discreta qualità c'era la scenetta sessuale o cose di questo genere per cui dopo che mi sono scottato un paio di volte che mi sono trovato dinanzi a o io o qualche collaboratore vediamolo prima se mi capita a me pazienza insomma mi difendo ma non me posso trovare in diretta sono tempi valordi che dobbiamo fare c'è questo vezzo perché purtroppo siccome sappiamo bene che il mondo della televisione della cinematografia come tutto quello che gira nel mondo perdonate che non voglio fare parroco moralista pedante le predicozze insomma da quattro soldi ma è così però cioè nel mondo la legge è solo una ciò che ti fa fare i soldi lo faccio ciò che non mi fa fare i soldi non lo faccio se la gente questo vuole questo chiede se questo tira cioè se io è una cosa se non ci metto come dire il corpo femminile in bella vista oppure la scenetta di sesso è questo tira di meno e la faccio tanto per attori disposti a fare queste cose se trovo senza nessun problema d'accordo e persone che si scandalizzano di questo sono sono rimaste ben poche ahimè noi però ci dobbiamo difendere figlioli meccaniche cioè capite non possiamo ripeto è complicato oggi siamo sotto assedio da tante parti quando uno sta sotto assedio che deve fare deve deve parare i colpi deve pararsi deve difendersi lo so che è brutto lo so che è faticoso lo so che non si può campare così come mi dice qualcuno io non sono il primo a dirlo mi dispiace d'accordo però che dobbiamo fare cos'altro si può fare magari scrivetevi una mail mandatemi qualche commento insomma che cosa vogliamo fare qualcuno ha qualche ricetta difesa un pensiero volontariamente provocato o deliberamente seguito e assecondato via i maestri di spirito insegnano è ora di concludere credo da un attimo un'occhiata all'orologio certamente concludiamo con questo che con i pensieri impurea bisogna comportarsi come con i malati di di lebra se abbiamo presenti noi i malati di lebra a un malato di lebra se tu lo sfiori lo tocchi soltanto minimamente ti contagi quindi l'impurità comunque si proponga quindi sotto cosa che vedi sotto cosa che pensi sotto cosa che ascolti sappi che se ti tocca sei già contaminato quindi bisogna evitare di farsi toccare per quanto possibile qui trattare questa materia come se ti stessi avvicinando a un lebroso mi chiede purtroppo è così io vorrei tanto dire altro ecco quindi ma altro a quanto pare al momento non è possibile dire speriamo sempre in tempi migliori bene proseguiremo la prossima volta insomma con questo cammino un pochino penoso fortuna che ci capita in questo tempo di di guaresimo insomma non è certamente io non mi diverto affatto a parlare di queste cose però è necessario farlo perché proprio perché sono cose così diffuse altre devono essere le difese e le contromisure bene un appuntamento a tutti alla prossima settimana se Dio vuole con la mia benedizione a presto a presto